In uno degli angoli più belli della capitale potrete realizzare l'evento che avete sempre desiderato, grazie alla splendida scenografia neoclassica del Marriott Grand Hotel Flora, che riserva agli sposi uno degli spazi più esclusivi di Roma, l'unico roof garden di Via Vittorio Veneto, il ristorante Alianto. Per il vostro ricevimento potrete usufruire dell'insuperabile cornice del Flora Rooftop Terrace, posto al settimo piano della struttura, da cui si domina il panorama dei mille campanini della città. L'ampio spazio è ideale per accogliere ogni tipo di ricevimento, potendo contare su una capienza di 190 posti a buffet o 180 seduti, che, grazie alla terrazza annessa e utilizzabile durante la bella stagione, diventano 250 seduti e 270 a buffet. Consapevoli che ogni dettaglio di questa giornata tanto unica riveste un'importanza al di fuori del comune, i wedding planner del Roma Marriott Grand Hotel Flora vi aiuteranno in tutte le fasi che riguardano l'organizzazione del vostro ricevimento, con un servizio sempre personalizzato. I cuochi elaboreranno per voi piatti prelibati, ispirati alla più alta tradizione gourmand, con menu personalizzati basati sui vostri gusti. La vostra meravigliosa giornata presso la location potrà concludersi in una delle meravigliose stanze dell'hotel, dove antichi mobili, sete e velluti preziosi vi accoglieranno per regalare un romantico epilogo alle vostre nozze.